È una delibera passata quasi sotto silenzio, ma in realtà è un documento propedeutico all'approvazione del bilancio che viene approvato ogni anno. Si tratta del piano triennale di dismissione degli immobili del comune. Palazzo Zacca mette a bilancio la vendita potenziale dei gioielli di famiglia per far quadrare i conti. E tra questi ci sono le quattro scuole occupate dalle famiglie in grave stato di disagio abitativo. Le scuole in questione sono state assegnate in comodato d'uso dalla precedente amministrazione. Le ex scuole occupate sono quattro, la Fosco, la Santa Lucia, Paradiso e Catarratti. Ci vivono cento persone, tra di loro 40 minori a battersi affinché quelle quattro scuole uscissero fuori dalla vendita. L'Unione Inquilini, che in consiglio ha trovato conforto nel consigliere del PD Alessandro Russo e nella consigliera 5 Stelle Cristina Cannistrà, che aveva già chiesto di escludere dalla vendita le scuole cedute in comodato, sarebbe come mettere in mezzo alla strada cento persone. Da De Luca una promessa messa a verbale, nessuna delle famiglie sarà messa fuori, sarà attuato il baratto amministrativo. Invece di pagare una pigione effettueranno dei lavori per mantenere gli immobili in condizioni dignitose. Occorrerà sottoscrivere una sorta di protocollo, una vittoria per Russo e per la Cannistrà, una vittoria per l'Unione Inquilini, che però sull'emergenza abitativa resta vigile. Secondo i dati dell'Unione Inquilini occorrerebbero, per far fronte all'emergenza abitativa, almeno 5.000 alloggi popolari. Le baracche sono oltre 3.000, più di 100 le richieste di assegnazione in deroga, cioè fuori dalle gradatorie ufficiali. I provvedimenti di sfratto sono stati nell'ultimo anno, ben 338, sono aumentati del 6,29%. Le richieste di esecuzione di sfratto sono state 228, vale a dire il 17,53% in più rispetto all'anno precedente. 101 sfratti sono stati eseguiti con la forza pubblica e l'ufficiale giudiziario. Si tratta nel quasi 100% dei casi di persone che hanno perso il lavoro, hanno perso il reddito, i cosiddetti morosi incolpevoli.